Osta, bene da noi, Rina. Osta è stamata, e appopastinavo che è su lemmine dell'ololaio. Osta è una bella stamata a mezzo, o no mio, una stamata, due gui, saporia, l'asea, fuori di una pira. Tanto l'ha ponato su semmeno, su posto, su lampadina, e ho me la che scresa e andando su giardino afora. Vivo uno di sua famiglia, Prade, Osatiro. A mezzo mi sembra che grava un po' di strumpa, quindi appoposto prima che vingata e non ha mai perduto il motivo. Francesco Serta li monta a caderno a... Caderno, questo è il nome di questo familiare. Caderno li monta, questo è il suo lavoro, poi è il suo lavoro. Ecco. Tanto questo non ha mai perduto, questo è quello che viveva, che viveva tanto in norma, e viveva sempre, e non ha mai perduto. E poi, Santoro Berrano, è giudì, si mutiare la sarda lunga, dice. Sempre è sarda. Sempre è sarda, non sono parenti. E si, mi che le sarda è mutiare la lunga, ne? E tanto adesso l'havia inteso, e poi aveva perduto, e aveva perduto un tubo, eh? E si mutiare la sarda, è tipo grusso, sempre è stato grusso. Non fai, non la caricare. No, eh, no, è bruttissimo. Io sto a tassi. Questa è quella. Questa è quella. C'è anche la città. Anche la città. Eh, là. Ah, è l'icolo? Là. Non corri, io là, non corri. Non si capisce. Anche la ricetta. Anche la ricetta. Ah, sì che ruisse. È enorme che lo mettono là. Non dalle torte là, per poter girare. Magia. Per la gente nervosa, non tu la vieni a torte. Ah, 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 ah. La gente crede che sono un embriaco, io stai sentato un embriaco. E' già un embriaco prima di vivere. Alla nostra. Salute. Salute. Qui c'è un californiano se vogliono un rep. Questo è un californiano. Questo è l'appateo, ma questo è il vino della California. Questo è l'attaccia a tubo. Buonissimo. L'uva. L'uva di qua. L'uva del locale. Qua. 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 Perfetto. Proprio. In palo di sagratio. Noghe. Qua. 20 anni. Sempre. Sorda. No. Mai. Non si scusate? Mai. Mai sordega, vuole. Sorda. Sorda. Solo sorda, vuole. Tote. Viene uscizione. No. Più loco di vecchi, tanto. ma enorme, ma ne ha dato una prima sordia a Boa Terra, tanto sordio la terra, tanto sordio Orzai. Si muti a Francesco Seda o si? Eh, a tanto è una mamma mente di un Molo Lai, mai vinti. Vio di sordio Boda, da onde e di Orzai. Eh? Però satterevo, sotterà a Bindar, no, però si es trompa, tu sempre, hai estrompa Se strumpa ervenne a posti, se strumpa ervenne a vegano a posti. Allora io guardavo sui che erravano sempre a Sarleva, tutti i guerratori sono in mezzo. Infatti quando hanno iniziato la strumpa proprio dall'allai e adagato usano proprio la manifestazione delle strumpa all'inizio. All'inizio guardavo sempre all'allai, poi ad ingrandirlo, direttamente. All'inizio ha vinto l'allai di Prusso. Che eravano Prusso? No, Prusso. Oppure Prusso di Strauss. Si vuole il Vinkia, devi sempre allenare di Prusso. Giusto. Infatti poi dopo che ha vinto il Vinkia dell'allai, comunque allenavano. Eh, se non attento suor di Vinkia sta la seguire, proprio per allenare Prusso. Senti l'allenamento. Sì. E i sport, vuole un po' controllare tra allenatori, organizzavano, dai metali, hanno un grande allenatore. E non si organizzava, si prendevano. Si, non il regolamento non è, poi non è un po' vinto, poi non è un po' vinto, poi non è un po' Non è un po' vinto, non è un po' vinto. E invece, se hai giù, per esempio, i sport, due a vinto, ti ti dà un sottotitolo, ci sottotitolo. Se non è male, se si puzzelavano. Dai, io se passavo, se puzzelavo, quando ero giovane. Puzzilevo. Se aveva un numero, la parte non parte, è tanto il nome. Poi me ne ho detto, solo pensavo che lo mandare a capo. Se no, non mancare per il fio. Poi, compri. Pensavo solo a usso. E funzionava un po' bene il gai. Questo è un esporto duro, tutto. Il gai tutto, non. Sono esporti individuali, per meno, però. Vedete il calcio, vedete il gai. Il tempo è disqualificato la gente. E spruzzi e mi dispiagano. Mi sono informati alle aziende del calcio europeo. Questa cosa non mi piace più nulla del calcio. Il calcio è un esporto proprio organizzato, elegante. Però in una cosa non l'ho mai impresa. I americani non lo hanno in nessun esporto, ma anche il calcio. E se ogni volta ti dico, andiamo qui. E si corre, andiamo a terra. E si corre, andiamo a terra. E mi aiuto. Tutto, 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 tutto. E non sono nato nulla. E infatti, una volta, vi ho visto un mese, e ho detto, il baskeball. E si andava a chiare. E se è tutto il baskeball. E se è italiano, direttamente a terra. No, 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 no. Noi non lo hanno in nessun esporto. Noi non lo hanno in nessun esporto. Noi non lo hanno in nessun esporto. Noi, in America non lo hanno in nessun esporto. Due. 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 E almeno diventa un aumento della lotta professionale. Osto dei luttori, le lezze. Oggi, e si corre dal dolore, è una cosa stupida. Prima del sport. Certo. Impreso. Prima del suo movimento, di azione. Questa propria cosa che ho pensato prima. Voglio giocare con qualcuno di ortaio. Impreso. E poi vinco. O che vuoi. E poi vinco. E magari ancora venire su una volta. Mi ritiro, mi cubo. Osto è un scopo, eh? Osto è un scopo, eh? Osto è un scopo. E non... Il capogravo. L'impresa. L'idea mi ha avuto. Ah, che vincere. Se vuoi o se è ortaio. E andare a essere campionato. E tanto se vuoi. Se vuoi. Invece. Hanno cominciato a guerrare. Due zone. Uno. De ortaio. Mi pare. Un cuore di questo obode. È un grosso su obode. Non... Non... Voi aumentare il tesinato del suo obode. Non dicevi. Voi vedere che devo scocciare il obode. E il goito è difficile che la calzare. E teni una FIFA due. E non ero di credere. Un presidio. E un grosso... E sopra... E l'ultimo è posto un bruno. E le dite... Canto è un bruno. Un bruno sullevato. E le parti più pesanti. Ma è vero. E' una sola sollevata. E le vinagre li haciane per ridire. Non lo lasciano andare a terra. Ma manco modi di padrone. c'è la terra. Tanto cominciano tutti ad avviare la serviglia. Dopo questo approccheremo anche voi, anche voi in gambe eleganti, avevano una berretta e una fascia avvianata. Io vi chiede ora che voi in un momento avvenzate, ma io giù a Borda vinca e gli adamo giù all'olà. A quanto è questo che ho vinto a questo? Beh, un po' di difficoltà, ma ho vinto a tutti, no? E tanto non ho portato il risultato per poter dare rispondere a tutti. E ho vinto a tutti. Tanto una terra di Borda provo provo a vedere queste ruttaterra più imprese, ma un po' di meno di un evento che non mi credo che ho mai avuto. Se la prima volta la storia ho avuto l'olà. E ho avuto una cosa o due, e che ho risposto a vedere queste aziende imprese, io sono solo venti anni fa. Però questa cosa mi spantava da meno di due, e non credo non credo che io la canseo. No, e ho un crivo bianco di Safiffa. Oh, ma da una volta Safiffa azzuta te. Safiffa di te, che raro in mezzo. Un'impresa può raro in mezzo. Un'impresa, 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 un'impresa. Se no non manca la perda, è un'impresa. E da un'impresa che ho cominciato, quando vi ho Piero Frau, e Piero Frau è tutto in Gavuoi, e io ho due anni di manco, Piero Frau. Non manco i tuoi. Non manco i tuoi. Mi sono. E teniamo questa sola, bella, bella, che vuoi. E noi diciamo, vieni a vita, vieni a vita a noi. E io ho una cosa o due, un momento primitivo veramente, mentre eravamoci in questa piazza, che è sprena di arena e cimenta. Assolutamente, non vengo a materassi, no? In terra proprio, no? Un'impresa. Ora è niente, mentre eravamoci a terra, eravamoci a terra. Tutti buoni ambini, amani, no? Una o due, un'impresa antica, primitiva, un'impresa. Bella questa storia, sì. Su vino, da Franco Colombo. Il mento di Seololai. Salute. Ok, fai, fai. Very good. Ok? Salute. Salute. La risa alla sazzarna buona. Buono. Buono, buonissimo. Un'ora andando e tornando. Andando e tornando. Se è morto di accordo. E poi usc'altro americano. Non gli spieghi che è in meta. Ma ti spieghi a uno? Poi, in un'assassi è stabilito. Uno da noi è mandato. E sul calcio, il no è questo... Cioè, si scrive Luca e ne viene. Voi sono in meta campionese a... Però... No, è non più a me la sussumine sul calcio. Mi la ti spieghi a uno tassista per andare a no. Ah, sul calcio è un arrivante. E' un tuo anno è un campione a Orbonzo americano. a mezzo di calcio. A bindi, a bindi, a trenta mesi di soli. Non arriva più a bindi. Eh, con tre. Numero uno. Numero due. Andando andando su baseball. Il football del 66 e del 68. E questi americani andando bene a Nantes. E' una di Sarbuona sul mondo. Ah, gli allenatori sono bene. a Beckenbauer da Monaco. Beckenbauer. E' un presidente di ora. Se l'ho imparato bene. Però, perché tutti non fanno bene. E' due in proporzione. Hai, per esempio, la proporzione dei campioneri del mondo, delle Olimpiadi. Di due anni. C'è un 99 punto. L'America in due medalli è il secondo di 40, 30. Immagina un aumento degli americani in i sport. Sì. E se ho calcio e vincere il campionato, mancano delle numerate. Sto filmando. Per questo. E' un minimale. No, ma se sport per un anno no. Se prosegueva, stai su... Football. Football, no? No. Football americano. Poi seguire il basket, mi pare. O no? Baseball? No. E il baseball, tanto il basket. E dopo il basket, tanto vieni di... Arti marziali. No. Aspetta. Balli ball, arti marziali che arriva. Tutti i suoi sport. Tu ero? L'aggetto, non c'è nessuno di abbi, tu ero. Vuol dire, vuoi? Sì. Non c'è nessuno di abbi. E ho preso un mirto dai ora. Poi ho comprato un paio mirtillo. L'aggetto su vodka. Il fermento è altro. Non farò anche l'aggetto a un paio mirtillo. Se no, non lo dà. Non preoccupare.